6,30 puntuali, ci stiamo dirigendo verso le terme di Caracalla. Eccoci, biglietto 8 euro. Emilia dice uno spettacolo senza fine. Emanuela, buongiorno. I forni dove gli schiavi bruciavano in continuazione la legna per fare in modo che la parte superiore si riscaldasse. Emanuele, buongiorno. Emilia, buongiorno. Anna, buongiorno. Dall'esterno non si nota la grandezza. dell'interno. Simona, buongiorno. Lasciando che il paesaggio filtri indisturbato dai raggi della gigantesca ruota. Maria dice sei forte, sei forte. Buongiorno Mario, è sempre più bello quello che ci fai vedere. Prego, è un piacere. Vi saluto, terme di Caracalla. Buona giornata. Ciao a tutti.